ragazzi eccoci qua arrivati altri 1500 mix di hip hop, synth, synth pop, techno, house, wave, musica italiana che tra poco inizieremo a inserire anche sul nostro sito www.mainstack.com noi come negozio siamo sempre in movimento copriamo tutti i generi musicali tutti compresi anche i remix se vanno quelli nuovi devono per forza quelli vecchi e poi noi abbiamo avuto una grande risposta su questi una grande risposta ne abbiamo avuti tantissimi si sembrava giusto cercare altre collezioni di queste cose e la collezione è arrivata ci aggiorniamo a domani anche con altre novità intanto mi raccomando seguiteci seguiteci venite nei negozi a trovarci perché troverete una marea di roba in più di vinili originali e domani tornerà disponibile che ce lo stare chiedendo un po' tutti il vinile blu dei doors ok intanto adesso ci insegnano queste cose e per me certo viva la musica viva la cultura perché la musica va a sentire a 360 gradi perché pubblico non è uno è tanto e basso il pubblico è bassissimo io faccio jump perché sono contento mi raccomando mettere il like su questo io perché ci stiamo facendo un mazzo addosso come un container e iscrivetevi fate iscrivere perché per mettereci numeridiamo e ve lo mettere pure voi con tutti i video che facciamo perché grazie a voi che facciamo i video ciao